Salve, sono Ciro Lanzetta, sono Chief Technical Officer di IEM. La nostra azienda opera nel settore delle energie rinnovabili, delle smart grid e quindi del monitoraggio di tutto quello che attiene all'integrazione delle rinnovabili nelle deti intelligenti. IEM da quando è nata si è sempre occupata di monitoraggio e di gestione delle rinnovabili, in particolare dell'impatto che hanno le rinnovabili nella rete. La crescita dei sistemi di accumulo e della mobilità elettrica crea il problema della gestione di queste nuove infrastrutture e di come questi dati possono essere interscambiati tra l'operatore che diventa sia produttore che consumatore e la rete. Quello di cui ci occupiamo noi è proprio quello di simulare questo processo in fase realizzativa e poi di gestirlo quando questo è in fase operativa. Il settore in cui operiamo è un settore di sicura espansione nei prossimi anni in quanto è legato alla gestione dell'energia che è un problema sicuramente cruciale in questo periodo. Ed in particolare la possibilità che tutti gli elementi della rete hanno di essere al tempo stesso produttori e consumatori provoca da un certo punto di vista una criticità del sistema per la sua gestione, ma dall'altra parte un'opportunità e l'opportunità è quella di essere sempre più indipendenti come utente finale o come aggregato di zone, di città o di paesi addirittura e quindi questo elemento va sicuramente gestito e regolato in maniera opportuna.